Oggi dalla clinica di Bologna vi voglio parlare dell'intervento di lifting del collo. L'intervento di lifting del collo è l'intervento che viene eseguito per ringiovanire ovviamente il collo e che mira a riposizionare il muscoloplatisma. Oggi l'intervento di lifting del collo è un intervento estremamente efficace, duraturo nel tempo ma anche mini-invasivo. Grazie alla tecnica che ho pubblicato sull'European Journal of Plastic Surgery è possibile fare questo intervento con un approccio mini-invasivo che però vada a riposizionare il muscoloplatisma in maniera stabile e quindi con un effetto duraturo nel tempo. Grazie a tutti.